Allora, vai, allora, raccontami un po', ora a ottobre ci sono le elezioni qua in Polizia? Sì, saranno in ottobre. A ottobre, quanti partiti? Sì, più di 60 partiti. Partiti? Sì. E prima quanti ce n'erano? Prima sono stati solo tre o quattro. Tre o quattro partiti? Sì, sì, questi sono stati. Ma questi partiti come vengono fatti? Dalla gente? Sì, sì, dalla gente. Tutti dalla gente vengono fatti questi partiti? C'è anche, tu sai, dei partiti che avevano la fortuna più che altri. Più che altri. Sì, che sono amati della gente lì. Della gente. E ora si comincia già a sentire. Mi dicevi prima appunto che ora puoi parlare con gli stranieri, mentre prima non si poteva. Sì, sì, ma adesso, tu sai, si comincia di cambiare. Comunque noi dobbiamo avere un po' di pazienza, tu sai, perché non poteva si cambiare. Subito. Sì, subito. Ci vorrà tempo? Sì, sì, ci vorrà tempo. Ma c'è più libertà per fare delle cose ora? Sì, sì, sì. Già ora? Sì, sì, adesso tu sai, o meno tu possa esprimare, tu possa dire tutto che tu vuoi, senza avere questo problema, senza avere, tu sai, questa paura, perché tu sai, prima tu avevi paura anche in testa, anche tu sai di quanto parla, tu sai hai paura di tutti, non poteva parlare in un bar così, una persona che tu non conosci non poteva parlare con lei tutte queste cose lì, ma i giorni, i giorni di liberazione sono stati pesanti? Sì, sì, un po', un po', un po', ma comunque parlo da lì, da Gerba, sono stato calmo, veramente, qua non si è sentito tanto. No, no, tu sai, la cosa che mi aveva piaciuto a queste giorni lì, perché tu sai, noi siamo riuniti insieme, tu sai, tutta, non sai, anche in villaggio lì, tutte le famiglie controllano essere insieme e fanno, tu sai, che passiamo tutta la sera quasi a controllare tutto il villaggio. Ah, tutta la sera a controllare il villaggio, l'autocontrollo. Sì, sì, fino a chi aveva preso il nuovo governamento, aveva preso le cose. Sì, ah, quindi è stato un autocontrollo di tutti. Sì, sì, anche, tu sai, la cosa che veramente mi fa tanto piacere anche che lì in Gerba sono stati tanti turisti che non hanno voluto andare da Gerba, che rimani, che sono rimasti lì, che loro hanno detto a noi, tu sai, che noi non abbiamo problemi con i tunisini, allora, i tunisini avevano problemi con il loro presidente, allora noi ruminiamo lì, sì, sì, non abbiamo paura di niente e anche tu sai che sono usciti per fare delle manifestazioni con i tunisini, sì, con i tunisini, e questo non l'abbiamo sentito tanto, tanto, veramente. Eh, ma è il momento che se, perché noi stiamo andando giù, se non si impara anche noi a fare la rivoluzione, forse tu sai che sarà anche da voi, eh, fate voi e poi noi arriviamo. Sì, non ti preoccupi, ci sono tanti tunisini che sono andati con la barra, per la barra, per la barra, ci spiegano loro come, eh, 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 ma smetteranno di venire ormai, no, normalmente si smetterà, ma tu sai, noi, io, non mi piacciono queste cose, perché tu sai, adesso, una perioda è troppo importante, se tu volevi aiutare il tuo paese, tu rimani tu rimani qua, esatto. Questo è il più importante, perché noi, a questa perioda lì, noi dobbiamo essere tutti insieme, tutti insieme, se noi vogliamo fare qualcosa nel nostro paese. Sì, per il rinnovamento. È il buon processo democratico. Sì, questo è. Sì, che comincia a uscire, speriamo. Speriamo che chi ora al giorno uscirà 100%. Eh sì, dopo le elezioni comincia il movimento. Sì, speriamo. Speriamo. Buona rivoluzione allora. Grazie anche a te.